salve a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video di minecraft ragazzi allora vi faccio un breve rassunto del precedente video sono andato a minare ho fatto la miniera che è situata lì e niente mi sono fatto l'armatura a full ferro e niente poi sono ancora devo prendermi anzi il ferro che ho messo a cuocere prima intanto ho 38 di ferro ok allora piccone ce l'ho la pala ce l'ho l'accetta ora ce l'ho e la spada con il secchialino ce l'ho posiamo la vecchia attrezzatura allora il secchialino me lo devo sempre portare però almeno me lo devo portare riempito d'acqua così per quando vado a fare mining subito mi piazzo il secchialino d'acqua e salgo sulla lava andando qui facciamoci una piccola scaletta così ragazzi mi faccio subito subito un uno stack sicuro di dark walk andando così non si capisce nulla perlomeno io non riesco a capire nulla meglio giovarci da sopra il pc ok mettiamoci qui in mezzo e cominciamo a scavare poi pollo pollo ok mi sono fatto uno stack e mezzo ah intanto mi vorrei fare delle cesto mi faccio mezzo stock quindi sarebbero due stack di di regno normale ok 16 cest ah mi sono diventando un particolare ecco non si apriranno se sono posizionati in questo modo quindi quindi ok ok sopra coprirò con una slab ragazzi la slab dato che è un mezzo blocco dato che è un mezzo blocco la cesta si aprirà quasi sicuramente quindi cioè non c'è margine d'errura ok perfetto intanto apportiamo un modifico qui sopra allora qui l'ho messo alla fine del blocco quindi qui anche alla fine del blocco molto più carino qui faccio di così ce l'ho delle zucche no qui c'ho i materiali tra l'altro il ferro mi sono diventato di metterlo qui poi le varie attrezzature di ligno alberelli e questa robetta qui l'andrò a sistemare per gli alberelli qui qui poi i fiori qui e i semini li metterò qui per il legno linee lo posizionerò qui anzi no così e sempre riguardante il legno qua potescare qua le asse la lastra scusate per farci una cosa più sistemata allora andiamo andiamo non ce l'ho un arco andiamo a dormire che ora possiamo farlo ragazzi esploriamo un po' e as 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 E' un'altra cosa? c'è il tidente vediamo se lo droppa ma che droppa ma che droppa vediamo se c'è un altro zombie che mi potrebbe droppare il tridente perché ragazzi il tridente sott'acqua è buonissimo allora non c'è ok zona paludosa ecco perché vedete ragazzi allora con il con il secchiello d'acqua posizioniamo l'acqua qui prenderemo l'acqua e non subiremo danno ok per ora tutto normale no pure le streghe no danno qui facciamo un po di mining c'è una strega e questa cosa non mi piace per niente perché le streghe ragazzi attaccano pelini e pozioni eccetera eccetera no ho capito dove sta di sicuro qua provo a capirco se il rumore proviene da sotto no ho capito no ho capito e le streghe non so da dove vengono da supra da supra no ho capito no ho capito non so non allora tra un po' intanto ci motivo va bene ragazzi è fatto un breve mining fatta questa piccola avventura direi di andarcene a casa fortunatamente mi sono portato anche dovrei andare di là si, ahia 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 si, ahia